Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questa lezione andremo a parlare di curve ideali di riscaldamento e raffreddamento di una macchina elettrica. Per prima cosa andiamo a vedere in che cosa consiste una macchina elettrica. Si definisce macchina elettrica un dispositivo in grado di trasformare energia, il cui funzionamento si basa sulle due seguenti leggi dell'elettromagnetismo. Una è la legge dell'induzione elettromagnetica che lega la tensione indotta in un circuito elettrico alla variazione del flusso magnetico concatenato con il circuito, quindi E uguale a meno delta Fc fratto delta T. L'altra è la legge dell'azione elettrodinamica che lega la forza a cui è soggetto un conduttore posto in un campo magnetico con l'intensità della corrente e con il valore dell'induzione magnetica, quindi la F uguale B per I per L, dove L è la lunghezza di questo conduttore. Una macchina elettrica può essere considerata come un sistema in cui ha una potenza di ingresso chiamata Pi e una potenza di uscita Pi. Esistono tuttavia vari fattori che causano una potenza persa chiamata Pi nella macchina durante il suo funzionamento, ad esempio le perdite nel rame, le perdite nei nuclei magnetici, le perdite negli isolamenti e le perdite di tipo meccanico. Tuttavia deve essere sempre soddisfatta la seguente equazione che esprime il bilancio delle potenze della macchina stessa, quindi la potenza U, potenza di uscita, deve essere in ogni momento uguale alla potenza di ingresso meno la potenza persa. E passiamo alla nostra curva ideale di riscaldamento che è vero è una curva ideale ma rappresenta in modo molto significativo e tutto sommato anche senza troppi errori quella che è la curva reale di riscaldamento. Durante il suo funzionamento una macchina elettrica si riscalda, questo a causa della potenza persa che viene trasformata in calore per effetto Joule. Abbiamo un andamento della curva di riscaldamento di questo tipo, quindi un andamento di tipo esponenziale, partendo da un valore di temperatura che è tipicamente la temperatura ambiente, fino ad arrivare a un valore teta R delta che è la sovratemperatura di regime, quindi a regime la macchina. E questo segue appunto questa relazione, che come vedete non è molto diversa da quella di una carica di un condensatore, se vogliamo dirla tutta. Quindi abbiamo questo teta delta che è uguale a teta delta R, quindi la sovratemperatura di regime, 1 meno E alla meno T su tau, dove abbiamo che teta delta è la sovratemperatura di regime alla quale si porta al corpo per T tendente all'infinito. Vedremo che poi non ci interessa arrivare all'infinito ma anche in questo caso abbiamo una costante di tempo che è la costante di tempo termica tau, da cui dipende il transitorio termico di riscaldamento e si può tranquillamente approssimare la raggiunta del regime quando la costante di tempo è circa 5 volte tau, esattamente 4,6. Questo 4,6 tau oppure 5 tau, a seconda un attimino di quello che utilizzate, se un po' più preciso, un po' più approssimato, è quello che viene chiamato il tempo di assestamento ed è proprio quando si raggiunge la temperatura, la sovratemperatura di regime. Vediamo altre formule. Allora abbiamo che questa sovratemperatura di regime, quindi questa teta delta R è uguale a PC fratto lambda A e vediamo che cosa sono questi termini. Allora PC è la potenza termica fornita al corpo, nel caso di una macchina elettrica questa è la potenza persa che si trasforma in calore, quindi potenza persa fratto lambda è un coefficiente globale di trasmissione, mentre A è la superficie attraverso la quale il calore si disperde verso l'ambiente. Poi abbiamo che tau, può essere anche calcolata come CT, dove CT è la capacità termica del corpo fratto lambda A che ritroviamo essere sempre coefficiente globale di trasmissione per la superficie attraverso la quale si disperde il calore verso l'ambiente esterno. Vediamo ora la curva ideale di raffreddamento, anche questa assolutamente con buona approssimazione rispetto a quella reale. Quando la potenza termica PC erogata, quindi il calore disperso, si annulla, il corpo inizia una fase di raffreddamento e cede all'esterno il calore che ha accumulato. Partiamo quindi da una teta delta I, questa la sovratemperatura iniziale e vedete che l'andamento è un esponenziale decrescente. Anche qui ritroviamo la nostra costante di tempo termica, da cui dipende il transitorio termico di raffreddamento in questo caso. Se le condizioni non sono cambiate, quindi non è cambiato nulla all'interno della macchina, avremo che la costante di tempo termica sia del riscaldamento che del raffreddamento è la stessa e quindi questo tau ha lo stesso valore. Nello stesso modo si raggiungerà il regime, quindi finirà il tempo di la fase di raffreddamento dopo questi 4,6 tau oppure 5 tau se vogliamo essere un po' più elastici. La curva che descrive questa esponenziale decrescente è questa, teta delta è uguale a teta delta I, quindi la sovratemperatura iniziale, per E alla meno T su tau e anche questo ritroviamo un andamento estremamente simile alla scarica di un condensatore. La temperatura diminuisce durante la fase di raffreddamento e il salto termico che è teta meno teta A dove teta A è la temperatura ambiente sarà uguale a teta delta e tenderà a 0, quindi avrò che la mia temperatura diminuisce fino a arrivare di nuovo alla temperatura ambiente e quindi avere questo salto termico pari a 0. E veniamo alle nostre conclusioni. Le curve di riscaldamento e raffreddamento delle macchine elettriche rivestono un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione delle prestazioni e nella sicurezza operativa di tali dispositivi. Comprendere e monitorare attentamente queste curve è essenziale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile, prevenire danni dovuti a temperature eccessive e assicurare la durata e l'affidabilità nel tempo di tali dispositivi cruciali in molteplici settori industriali. Bene, spero che questa lezione vi possa essere stata d'aiuto, di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao!